La sua unica colpa è stata solo quella di ricordare che non si può orinare in strada a due passi dal portone del comune, ma per tutta risposta un dipendente di Salerno Pulita è stato aggredito a calci e pugni. La violenza è scattata prima dell'alba in pieno centro, il malcapitato ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ospedale. La società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti è pronta ad affiancare il dipendente nella denuncia penale, come spiega ad Otto Channel l'amministratore unico Enzo Bennett. Non è un caso isolato, stamattina abbiamo richiamato uno che stava urinando nel pieno centro della città. Noi siamo vicini al nostro dipendente, esprimiamo solidarietà, lo affiancheremo in eventuali procedure giudiziarie che si potranno svolgere se si riuscirà ad identificare il colpevole. Io faccio un appello a tutti, la città ha bisogno di un ritorno alla civiltà, noi come società ce la stiamo mettendo tutto, ma ovviamente abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini e di tutte le imprese di Salerno. Solidarietà al dipendente aggredito è stata espressa dai rappresentanti dei lavoratori, ma anche dal sindaco Enzo Napoli. È una fase difficile, mentre stiamo moltiplicando gli sforzi per restituire Decoro Salerno, siamo costretti a registrare episodi di vandalismo, violenza e sabotaggio. Gratitudine e solidarietà a chi lavora ogni giorno per la città. Le parole del sindaco di Salerno.